L'avvenuta crotone dei giovani della Lega è importante anche per capire qual è la voglia e cosa si può fare per questo territorio, quindi quale potrebbe essere l'impegno dei giovani della Lega? L'avvenuta della Lega Giovani a Crotone non è importante, è fondamentale dal mio punto di vista perché in tanti giovani stanno scappando da questo territorio, ci sono ragazzi e ragazze che stanno andando all'estero a fare quel lavoro che gli europei non vogliono più fare e chi rimane qua vive sulle spalle delle proprie famiglie, siamo in un momento storico in cui non sono più i giovani a mantenere i propri genitori ma sono i genitori che si devono indebitare per mantenere i propri figli. Noi dobbiamo come governo investire tanti soldi su Crotone e sulla Calabria per noi il tema delle infrastrutture è fondamentale, il tema dell'aeroporto, delle strade e delle autostrade e poi cercare di rendere attrattivo questo territorio permettendo alle aziende di insediarsi e ai giovani di poter lavorare. Io penso che qui non ci sia voglia di assistenzialismo ma ci sia voglia di ritornare a lavorare e dobbiamo dare l'opportunità a questi giovani di poterlo fare e penso anche che è possibile un nuovo tipo di politica in Calabria perché qui sia il centro-destra che il centro-sinistra secondo me ha amministrato male ha pensato un po' di più ai propri interessi piuttosto che allo sviluppo di questo territorio invece la politica in Calabria deve essere basata sull'onestà, sulla competenza e sulle capacità come facciamo al nord. A me piacerebbe esportare il modello Lombardo e il modello Veneto anche in Calabria dove gli ospedali funzionano, dove le scuole funzionano, dove le strade e le autostrade sono percorribili e dove gli aeroporti sono efficienti. Diciamo che mi piace l'analisi fatta su questo territorio, sul sud. Il fatto che nei programmi del governo non c'è sud ma è soltanto Italia significa che c'è attenzione e che si vuole considerare il sud una parte dell'Italia? Il sud è una parte dell'Italia ed è una parte fondamentale. Noi prestiamo molto interesse e molta attenzione al sud e in particolare alla Calabria tant'è vero che il mio segretario federale e ministro dell'interno è stato eletto in Calabria e quindi è mio dovere venire in Calabria, cercare di intercettare tanti giovani e fargli capire che è possibile un nuovo tipo di approccio alla politica anche in questa terra. E io voglio che questa terra diventi il punto di riferimento anche per tanti ragazzi che dal nord devono vedere la Calabria come una risorsa. Onorevole, l'avvenuta dei giovani della Lega nazionale è un atto di coraggio o la consapevolezza che questa terra ha bisogno di essere aiutata? Io direi che è un atto di continuità, non è la prima volta che il segretario nazionale dei giovani della Lega viene qui in Calabria, ormai questa è l'ennesima tappa di un percorso che è iniziato già un anno e mezzo fa e che ha lasciato sul territorio già oltre 200 iscritti a questo movimento giovanile ed è segno di un partito che cresce e riesce a dotarsi anche di un settore giovanile molto importante che manca alla politica in generale e di cui noi non vogliamo fare a meno. Vogliamo dare un'opportunità ai giovani che vorrebbero interessarsi alla politica di avere un contenitore capace di fargli esprimere e soprattutto capace di essere palestra per quanti vorranno intraprendere un percorso politico o quantomeno vorrebbero esprimere la loro passione politica. Parliamo dell'Accademia? Parliamo dell'Accademia di Formazione che abbiamo intrapreso due settimane fa alla mezzaterme e che contemplerà un ciclo di appuntamenti, otto appuntamenti dove i ragazzi potranno assistere a delle elezioni tenute da deputati, da sottosegretari, ministri, viceministri, docenti universitari con i quali potranno parlare di politica e approfondire le tecniche che dovrebbero essere alla base di coloro che vogliono impegnarsi in politica. Spesso e volentieri abbiamo visto nei nostri consensi comunali, regionali ma anche di carattere nazionale persone che sono arrivate ad avere dei consensi ma che non avevano una preparazione di fondo. Quindi quel gap che c'era tra il nord e il sud può essere colmato dalla politica della Lega? Il gap che c'è fra il nord e il sud che ancora c'è che è più che altro di carattere economico deve essere colmato da una politica che si assume le sue responsabilità e che le prime responsabilità le assume proprio nei confronti delle nuove generazioni ma non a parole come si è sempre detto cioè parlando dei giovani, riempendosi la bocca dei giovani e del futuro ma parlando e impegnandosi con atti concreti, gli atti concreti sono i deputati nazionali che scendono a Crotone come questa sera, le scuole di formazione che noi abbiamo impiantato e l'opportunità di appellarci e ne approfitto della vostra testata giornalistica a tutti quei giovani di Crotone, della provincia di Crotone, della Calabria che vogliono avvicinarsi ad un nuovo modo di fare politica. Ci seguono, ci seguono sui social, tramite Facebook, tramite Twitter ci ricerchino per potersi iscrivere alla scuola di formazione o semplicemente per potersi avvicinare alle nostre sezioni. Lega Premier, la Calabria ha dato un segnale anche preciso con la raccolta di circa 7.000 firme a favore di Salvini, vuol dire che questo movimento politico sta crescendo anche al sud? Sì assolutamente, la rivoluzione del buonsenso è partita inizialmente dal nord ma poi molto rapidamente si è propagata in tutta Italia e appunto i dati che ha citato lei ne sono una tangibile dimostrazione. Cosa vuole fare la Lega per il sud? Sicuramente vuole dare la possibilità alle persone del sud di vivere il proprio territorio e rilanciarlo perché se c'è un diritto a desiderare un futuro migliore deve essere ancorato a questo diritto a poterlo desiderare a casa propria quindi a sviluppare il proprio territorio al meglio e vivere nelle condizioni nelle quali tutta Italia ha diritto di vivere cioè con un'amministrazione vicina ai cittadini che esca dai palazzi sia nelle strade e comprenda davvero le esigenze di tutti i cittadini. Vi aspettavate una sala così piena di giovani ma anche di persone adulte incuriosite dalla politica della Lega? No, veramente questo no e sicuramente visto dove ci troviamo e visto il colore del nostro standardo, il blu possiamo dire che anche a Crotone il cielo pare essere sempre più blu. Questa è una canzone che ci appartiene quindi significa proprio questo il cielo è sempre più blu si può guardare al futuro con una maggiore serenità e con la speranza? Assolutamente sì ma più che al futuro al presente perché comunque il cambiamento è già in atto quindi godiamoci questo presente e guardiamo a questo radioso futuro. Una bella presenza in questa sala consigliare con questi giovani deputati parlamentari della Lega che sono venuti a dare un segnale ben preciso invitare a credere nella politica della Lega perché la politica della Lega è quella di dare risposte alla Calabria, a questo territorio. Sì, veramente sono sorpreso da questo interesse per la Lega e oggi è il primo incontro pubblico che facciamo qui a Crotone come Lega Salvini Premier e abbiamo la sala consigliare piena e tanti giovani, veramente tanti e sono veramente favorevolmente sorpreso perché si vede nella Lega un partito pulito un partito nuovo contrario al clientelismo un modo di fare politica orientato al bene comune e non alla cattiva politica di cui si sente parlare. Vedo tanto interesse da parte di giovani che si stanno avvicinando veramente in modo sorprendente e questo mi fa tanto piacere perché quello che deve unirci sono dei valori comuni una base antropologica comune che possa avere come obiettivo il perseguimento del buonsenso. Dopo il fallimento e dopo una politica trita e ritrita dei partiti storici la Lega oggi si inserisce anche a Crotone con risultati molto positivi. Certo, perché la Lega è un partito territoriale e punta appunto al bene del territorio e qualcuno dice ma cosa ci fa i leghisti in Calabria? Beh, fanno proprio bene a stare nella Lega i calabresi perché i calabresi comprendono, devono comprendere che la Lega mira lo sviluppo dei singoli territori sta a cuore alla Lega che i territori in cui agisce progrediscano e diventino grandi quindi Crotone e la Calabria con la Lega diventeranno grandi e soprattutto si libereranno da una politica del malaffare del clientelismo e una politica diciamo anche mafiosa. Parliamo anche dell'aeroporto delle strade insomma sono tanti i problemi che credo oggi saranno messi sul tavolo ma devo dire che già il coordinatore nazionale dei giovani della Lega mi ha risposto e mi ha detto noi siamo qui per dire che c'è l'impegno da parte della Lega e della politica della Lega a favore della risoluzione di questi problemi. Io ho chiesto a questi parlamentari che oggi sono qui a Crotone un impegno serio per Crotone e per l'aeroporto non è un caso che siano qui a Crotone dei tre parlamentari io il mio impegno in politica è stato orientato ed è orientato a perseguire il bene comune del nostro territorio e della nostra terra ecco questo è il primo atto pubblico io non sono un parlamentare ma sto cercando nel mio piccolo di fare qualcosa di buono per la nostra terra. Marisa Cavallo è la coordinatrice provinciale dei giovani della Lega Salvini Premier è un bel ruolo svolto poi da una donna ancora più interessante una grande responsabilità io non posso che ringraziare il segretario della Lega di Crotone l'avvocato Giancarlo Cerrelli per avermi concesso questa grande opportunità o meglio per averla concessa a tutti i giovani che si sono avvicinati al nostro partito e sono contenta perché sono tanti perché stiamo crescendo ci allargheremo a tutti coloro che sono interessati a fare il bene sul territorio a lavorare bene e a ridare dignità a Crotone che ormai è da tempo abbandonata a se stessa. C'è tantissima gente oggi a questa prima iniziativa pubblica della Lega e dobbiamo dire che c'è interesse anche come ben dicevi tu nei giovani sono tantissimi sono veramente tanti sono orgogliosa sono contenta e la presenza qui di tante persone soprattutto giovanissime è la dimostrazione che la Lega in Calabria che la Lega a Crotone c'è esiste è una realtà e dobbiamo anche aggiungere che in realtà nessuno si aspettava una crescita così forte da parte della Lega al Sud forse si è riusciti a far capire che ormai non c'è più il gap tra Nord e Sud ma c'è soltanto la voglia di fare una politica al servizio del cittadino esatto la Lega Nord non esiste più esiste la Lega Salvini Premier e io in particolar modo riferendomi a Crotone sono contenta di avere a capo della Lega Salvini Premier di Crotone l'Avvocato Giancarlo Cerrelli lo ringrazio veramente di cuore perché è una persona che ci sta indirizzando bene a me e a tutti gli altri giovani e sono sicura che con lui faremo faremo una grande strada quali sono i progetti e i programmi che avete in campo metterete in campo nel prossimo periodo l'obiettivo il primo obiettivo è occuparci direi degli ultimi di tutte le persone abbandonate di tutte le persone povere di tutte le persone bisognose di tutte quelle persone che non hanno voce noi saremo voce della gente di Crotone al primo posto ci saranno tutti coloro che hanno realmente bisogno che hanno diverse esigenze che devono essere perché è un dovere devono essere aiutati e quindi noi siamo qui per questo Angelo quanto è importante la comunicazione per avvigionare i giovani alla politica? Allora la comunicazione è importante perché c'è stato un distacco dalla parte giovanile verso la classe verso la politica in generale e questa è una cosa molto negativa perché la politica non si deve fare solo ed esclusivamente nei salotti ma la politica ha la funzione di comunicare ai giovani le speranze l'attenzione al territorio che sono tematiche che la Lega sta cercando di portare avanti attraverso noi giovani Devo dire che i vostri rappresentanti nazionali che sono arrivati qui a Crotone hanno dato un bel messaggio per quanto riguarda la politica della Lega ma secondo te dobbiamo crederci? Assolutamente sì perché abbiamo un senatore un deputato il senatore nella figura di Matteo Salvini che ha scelto la Calabria per portare avanti la sua candidatura e la figura anche di senatore oltre che di viceministro praticamente lui è sceso cinque volte in meno di due anni cosa che gente come Matteo Renzi dei salotti buoni o la signorina Elena Boschi in Calabria non abbiamo mai visto se non per far finta di fare delle finte inaugurazioni come la Salerno Reggio Calabria che ancora è interrotta o la tragedia della 106 che ancora ferma e io che sono mezzo crotonese ogni volta che vengo a Crotone per me è una tragedia fare quella strada Diciamo che in realtà c'è un fermento politico tra i giovani che ci fa ben sperare Assolutamente sì noi stiamo avendo adesioni esclusivamente da giovani che vanno dai 16 ai 30 anni stiamo cercando di rifare una classe politica che dia speranza quella speranza che la classe politica dalle camicie cravate in nome dell'amore per il Sud che non ha mai portato avanti attraverso solo ed esclusivamente promesse 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 ai dati di fatto abbiamo ancora le infrastrutture più vecchie del mezzogiorno cosa abbiamo la disoccupazione giovanile al 56% una città come Crotone che per me è una delle più belle realtà del meridione che ogni volta che vengo la vedo sempre peggio peggio quindi io credo che noi giovani possiamo dare una scossa a questa regione a questa città a questa provincia perché lo meritiamo e dobbiamo dire che finalmente c'è un'alzata di testa da parte dei giovani perché fino ad oggi erano quelli primi ad andarsene a non voler tornare più nella propria terra esatto io sono una di quelle persone che era partito e tornato per lottare perché io ci credo in questa terra siamo noi i primi a doverci credere come possiamo farlo solo ed esclusivamente cercando di dare un cambio di ritmo a questa regione perché questa regione ha una potenzialità espressa al 10% quindi noi dobbiamo portare avanti quel 90% che non dico al 100% ma almeno dobbiamo tirare fuori il meglio dei nostri ingegneri dei nostri dottori insomma i migliori professionisti noi ce li abbiamo è un controsenso che partano le migliori figure istituzionali le migliori figure lavorative sono tutte gente calabrese siciliane insomma noi dobbiamo lottare per la nostra terra e attraverso la Lega io che sono uno dei primissimi militanti del 2014 insieme fatemelo dire senza problemi lo straordinario lavoro che sta facendo l'onorevole Domenico Furgiuele che sta portando avanti anche il concetto il messaggio che deve passare della Calabria che è un messaggio positivo e Domenico Furgiuele l'onorevole Domenico Furgiuele sta facendo questo Domenico Furgiuele